I've been reading the stars Dominio su Combine E non capisco il perché Cioè esco da una partita Voglio cercare un'altra mappa Cioè finisco di registrare su una mappa Cambio la mappa Cerco di cambiare la lobby per trovare un'altra mappa E mi trovo sempre Combine Quindi ce l'abbiamo a morte con sta Combine Oggi siamo con il Vesper E come Non so se l'avevo fatto nello stesso episodio Sto usando il Reaper Forse la prima volta lo uso il Reaper Ok Ottimo Siamo subito Solo che è un'arma che tende ad alzarsi moltissimo Però ha una cadenza di fuoco E tende pure a cambiare E a cambiare A svuotare il caricatore In una maniera esorbitante Vabbè ragazzi E' anche normale Dato che Ha una cadenza di fuoco pure Cioè ho te l'ho ucciso io da qua Incoglionito Ora uscite Però voglio No vabbè non muoio Non muoio L'uola è Dio Quello è Dio Non muore Giusto Ha sei panchi di cazzo Allora Ora che C'è morto uno Fatevi due conti Andiamo di qua Andiamo se c'è qualcuno Solitamente ci dovrebbero essere Vabbè ragazzi Eh va bene L'assister Aspetta c'è un altro Non ci credo Cioè come avete visto Era morto Se avevo il WMP Ragazzi Era già morto Il problema Il problema è che Bisogna essere abbastanza Precisi Con quest'arma E soprattutto Bisogna Sapersi Tenere Le munizioni Ah se no E' qua Loro qua sono Ovviamente La camper Entro io Devono camperare Volevo dire Entro io E volevano E devono venirmi da dietro Cazzo Ormai con sto La parola camper Perciano nella bocca Non so quanto Cambiamo un po' Ok Ho sbagliato Ci stavo perdendo A Prendiamo C A sto punto B Cazzo Mettiamo sempre Alla uno Sta facendo Il WB Ok Guarda qua Mi stava pure uccidendo Non ci credo Sti cazzo Di caricatori Dai Dai Pidiamo A Ci stavo facendo Cambio di mappe Allucinogene Ok Noi vediamo sempre puntati Magari qualcuno Lo possiamo trovare Ok Ancora Dai Ancora Di dietro Ma dove cazzo sono Abbiamo perso Hanno perso Hanno preso A Quindi Dobbiamo starsi qua Ora uscite Voglio le kill Lozze Vediamo A Vediamo A Vediamo A Vediamo gli obiettivi Ragazzi Vaffanculo È impossibile Sta cazzo Di Di arma È troppo forte Se viene usata Contra Ma quando la uso Io fa schifo Eh vabbè Guardate là Non va bene Per i miei gusti Quest'arma Però A meno A meno provarla Una sola volta Ci sta Dai Come mi ha preso Io cerco di scampare Dai Là sopra Ovviamente Dal camioncino Che dove vende Le fette biscottate Fammi passare Che non c'è Che non c'è nessuno Allora Stiamo prendendo Avete visto Quanto cazzo Si alza Quanto cazzo Si alza Cioè L'ho uccisa io Dall'altano Ma come fai Allora andiamo qua sotto Ve lo dico subito Ok Andiamo sotto Il ponte Di Garibaldi Ok qua ce n'è uno Ve lo dico subito Ok Ricarichiamo un secondo E ce l'abbiamo qua Ma che camper Che siamo Ragazzi Che mi salvo Ce l'abbiamo di dietro Eccolo qua Non ho più munizioni No Cazzo Quanti invidi Che mi stanno arrivando Puttana Guardate qua Quanto è forte La cadenza di quest'arma No Se dire che È ottima Solo che tende Ad alzarsi tanto Quindi è meglio Usarla Con qualche Col calcio No No Ok Va bene così Ok Ragazzi Mi ho dimenticato Che avevo il Ripper No No Che che Ricoglionito Vi giuro Io stavo Col cuore così Tipo Ho detto Mi prenderano Mi prenderano Quella cazzo di granata E mi ha preso No vabbè Questo mancava Ricoglionito Sono io ragazzi Errore mio Errore mio Guardate 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 Come non muoio No Non muoiono Ragazzi Mi sta rendendo conto Che non muoiono Che cazzo di colpi Dovrei dare Per ucciderne uno Me lo dite Ozzo Azzo No No Sì Il camper Un altro poco Perché stai facendo poco Già E va a fa culo Abbiamo perso il primo round Ragazzi Ovviamente Stiamo facendo Schifo Come Score Anche se non siamo In negativo Qua gli fanno le scivolate Alla Alla Cannavaro Io non lo so Vabbè ragazzi Ovviamente Il secondo round Cerchiamo di giungerlo meglio C'ho la cola che già inizia A fare Trick e track Perché veramente Sto gridando Da Da circa 8 ore E dovrei fare Un trapianto di golia Allora Allora Vi scommettete Che io muoio Se vado di qua E c'è no C'è no un altro C'è no un altro No abbiamo visto un altro Se non sbaglio Ah di qua sono Uh Uh Questo è il culo Il culo dell'ultimo Dell'ultimo proiettile Allora ce l'abbiamo di qua L'hanno ucciso Ahi Dove deve andare Col reaper Troppo forte L'uno contro Uno di per Ce l'avete subito davanti Non è andata a sparare Non è sparata a caso Com'è fatto io Qua Potevo usare il ripper Come ricogliorito Pichiamo A Pichiamo A Io ho 200 punti 2,000 points Il mio inglese proprio fa cagare No Non ci credo Poi dicono che devo Devo ro... Guarda ma mi stai rendendo conto Cioè ragazzi Ma anche il tempo di spawnare mi danno Quanto è forte quest'arma Quanto è forte quest'arma Ma Con sto cazzo di fucilo con l'Argus Che prende da 3 km di distanza Non si sa come Ma prende da 3 km di distanza Cioè Uno cerca di giocare Delle Le partite per divertirsi Guarda E non muoiono E vabbè Non muoiono E non muoiono Che dobbiamo fare ragazzi Ah da qua Ne stanno rendendo 2 Va bene Va bene Va bene Io li aspetto Sto in silenzio per giocare Per bene Non muoiono Non muoiono E muori Cioè Un caricatore Per un cn1 ragazzi Non va bene sta cosa Un caricatore per un cn1 Dai vabbè Va bene Non è giornata oggi Non è giornata Guardate Ce l'abbiamo di dietro Le ci commette Io Vado qua dentro E muoio Così A caso poco Ma voi dovete andare col cazzo duro Così Così Vai Basta Questa non era cazzo duro Questa era l'incogionimento pura 100% Ma vabbè Ce l'era la stessa Che mi ha ucciso prima Ragazzi Cioè Vi rendete conto No Come siamo combinati qua Ok No Il coglionito Qua io Che potrevo usare Il slipper Non l'ho usato Dobbiamo pure valutare certe cose Guardate Ce l'abbiamo di dietro No Il ripper Cazzo Non funziona certe volte Non ci credo Ragazzi Cioè Io non ce la faccio più a giocare Non ce la faccio più Uno che non È da un bel po' Che faccio partite di schifo E non capisco perché Due Che non riesco a giocare più Allora Allora Ora esci Questo è culo Questo è culo Abbassati Abbassati Cazzo ragazzi Ho visto però Se non ci sta Mamma quant'è forte Il ripper No Ragazzi Era entrato in feed E mi sono preso Un bel Attacca aereo Doppia Tripla Ottimo Ragazzi Vi giuro Forse all'ultimo Ho cercato di fare qualcosa Di riprendermi con lo scorre Ma veramente Ormai È diventato impossibile Giocare certe mappe Quindi Abbiamo Fatto una Killcam Di un italiano Dunque abbiamo fatto 30-22 Lo scorre Possiamo dire Schifoso Per i miei gusti Perché io cerco sempre Di fare meglio Di migliorare L'ho fatto cacare Stavolta Quindi Ragazzi Come sempre È finita questa partita Andiamo subito alla seconda Ed eccoci ritornati ragazzi Siamo sulla seconda partita Nel questo episodio Siamo su combine Dominio Ragazzi Voi direte Perché sempre Combine Ragazzi Sono stato circa 10 minuti Di ricercare una cazzo di partita E Mi ha fatto Rientrare Automaticamente Qualcino M'hanno dato Manca il tempo Di scegliere Tra carota e cipolla Quindi oggi Ragazzi Lo sceglie Dai Ragazzi Io Giocato lo sceglie Quindi prima L'ho rimesso In questa classe Perché vorrei Provarla Anche se Molti lo usano E dicono Che è forte E ammazza Con due colpi Io cercherò Di giocarlo In modo anche Da non scrivere Molto tanto Perché veramente Posso prendere Le mie Donati E gonadi Le mie Come ragazzi Chiamano Corri di vocale Usare come imbuto Ok No vabbè Già iniziamo malissimo Dai Dai Vi rendete conto Secondo me E la sensibilità Che mi Che mi penalizza Dai Come mi ha ucciso Quello dalla sopra Cioè il nemico Ma ci sono Dalla nostra posizione Però Tutto due colpi Ci ho messo Ad uccidere Due colpi Noi ci mettiamo qua Andiamo Andiamo a prenderlo Doppia Ottimo Sto sceglie No Vabbè ragazzi Ha laggato Ha fatto un lag Cioè stai vedendo Come ha laggato Cioè Io non lo so Ha fatto una botta di lag Pensavo di averlo preso Ma non l'ho preso Dai È impossibile ragazzi A 7 e 1 Sta a fare No che è sto lag Ragazzi No ma state scherzando No vabbè Vabbè Non voglio gridare Santo Oltre che non posso Che poi mi chiamerebbero La polizia A casa Andiamo Guardate come ci vengono Di dietro Esci Dove cazzo sei Dove cazzo siete Questo è culo Ragazzi Però non stavo Prendendo Ma con una bandiera Seguri Affa Possiamo prenderla Ok Contraattacco Giochiamola Giochiamocela per bene Questa Contraattacco Cerchiamo di non muovire Ragazzi Ok Questo è culo Questo è culo Ve lo posso tirare Lo posso assicurare E culo Vediamo se Siamo a chiamare Il primo Cerberus Ok Abbiamo chiamato Cerberus Ce l'abbiamo A disposizione No No Non ci credo La ricarica Ragazzi La ricarica No Non lo chiamo qua Usiamo il nostro Contraattacco Uno qua Uno qua E uno qua Così te li botto Tutti Ottima Bella merda Manco uno Ne ho preso Tanto che abbiamo Il nostro Doppia Mamma quant'è forte Lo Sheva ragazzi Veramente Forte come arma Dai però Dai L'ho preso 4000 volte 4757 volte Come fai a non morire Cerberus Kill O Un altro Ce n'era Ho sbaglio Esci ora Meno male che c'ho Antisgrade io Quindi No No Cazzo Qua è ora Esci Allora ce l'abbiamo D'acqua Ok Questo è culo Ragazzi Ve lo posso dire Oggi Troppo culo Mamma mia C'è il cerberus Che mi fa kill Kill su kill Vediamo se riusciamo A chiamarne un altro Ottimo Mamma mia Questo è la gava Ottimo Vai Cerbo Vai Cerbe Vai Cerbo Ricarica Allora sono tutte e due qua Guardate come escono Uno E l'altro Zitti no Dai Dai Usiamo il Controattacco Al di qua sono Ragazzi Sicuro Allora Eccoli là Cioè l'avete L'hai visto Vediamo qua Ok Ottimo ragazzi Dai che stiamo giocando bene Questa partita Prima volta che lo uso Lo sceglie Possiamo dire Ragazzo Devo fare come i nabbi Dobbiamo camperare Dobbiamo camperare Come i nabbi Eh Eh Se devo venire Lassopra Fare così Poi Fare così Poi girare L'angolo Così A caso Ce n'è un altro Qua da qualche parte Che l'ho visto Ok Questo è culo Ragazzi Lo posso Assicurare Perché ormai Sempre culo Ok Facciamo il giretto Giriamo di qua Ok Abbiamo fatto Un'attima azione Possiamo dire Forse Ora che sono Un pochetto Più caldo Oh L'altro Cerberus Tieni Te lo chiamo qua No No Che rincoglionito Ragazzi Mamma Che rincoglionito Che sono Ragazzi Mamma Che rincoglionito Che sono Ragazzi Ho chiamato Il Cerberus A fine round Porca miseria Che cesso Che sono Ragazzi Dai Ho chiamato Due Cerberus Nel primo round E non va bene Perché il primo Il secondo L'ho chiamato A cazzo Non mi sono accorto Che eravamo Alla fine del round Ci abbiamo vinto Per poco Possiamo dire Allora Noi abbiamo A disposizione Anche Un'attacca aereo Qua è tanto Rutto in diretta No è forte È forte È forte Lo sceglie Ragazzi Ve lo posso Sceglie Sì Ma non me li dovevi Fottere Però Ancora Ne sto prendendo Dai 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 Campera 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 Un altro Pochino Ho chiuso Questo Metto Uno qua Uno qua E uno qua Vediamo se riusciamo a fare Almeno qualche kill Manco uno Come Mi ero predestinato Ok Qua non c'è nessuno Andiamo di là Oh È nemico Spostati Spostati Certo Cerberus Non mi caga Vediamo Meglio così Cerberus Non mi caga E io prendo le kill Ammussi No Avevo Posevo usare il coso Eh Il coglionito L'attre L'amma Quando c'è l'attre Ragazzi La migliore cosa Che tu sai dove sono Quindi puoi andare Dove cazzo ti pare No 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 Qua ho usato troppo Devo cercare di stare Un po' il cambo Ragazzi Dalla prima partita Che sono rimasto Troppo No Dove cazzo eri Che non ti vedevo Sono cieco io Ragazzi Perché mi si è tentato La mira Qua se ne va Fotti Fotte Le spostati Ok Ottimo Ammi c'è qualcuno Qua Allora qua Ci dovrebbe essere Di solito qualcuno Mamma ragazzi Che cazzo Cazzo Potevo fare La Esci Esci Di qua C'è deve essere uno No Di dietro Di dietro Ci abbiamo tutte e tre Le posizioni ragazzi Ma quando mai Stavamo perdendo di brutto Pure Ah Ho usato il glitch Quindi è qua No Vabbè Sì Vabbè Se lo prendeva al volo Mamma mia Mamma mia Certo Ci vuole pure Il culo Ragazzi Eccolo qua Tipo questo Troppo forte Lo shave Andiamo B Oh Che culo No dai Ma guarda Quello si è fatta Guarda Ma col fumo Con l'arrostisci carne Spostati Ma non vedi che ce l'hai qua No vabbè Ma ci sono quelle Mi sparavamo Ucciso quello che saltava Va bene Ragazzo sei Esci ora Volvere con il ripper Ero con il ripper No dai 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 Cazzo Non posso continuare così Andiamo cerchiamo Invece di prendere una bandiera Che stavamo scassando Prima Guarda perché Stiamo facendo cacare Non si sa Usciamo qua piano piano Io non vorrei camperare Ma se mi costrengono Lo faccio Io non li vedo Che cazzo sono Turco di cacca Marocchini Bastardi Non è che li abbia con loro Oh Culo No Di dietro Di dietro Ragazzi Mamma che errore Però Ancora Mi sto mangiando Le mani Perché ho buttato Un cerberusso così Mi piaceva fare tante Belle kill Ok Quando riesco a prenderlo Ricorre il ripper No cazzo No cazzo la mira La mira Ragazzi La mira La mira La mia Ragazzi 5.000 punti Ah è vero Ci sono I doppia I doppia I doppia Zitti tutti Forse qualcosa di buono La stiamo facendo Questa partita Sceiva Sceiva Devastante Guardatele Non voglio camperare Quindi ovviamente vado Sempre all'attacco Ma porca puttana Abbiamo perso Abbiamo perso Alla Grande Però possiamo dire Di aver giocato Ottimamente Con lo Sceiva Un'arma Che non mi pensavo Mai in poi mai Di giocare Bene Perché è veramente Difficile Essere precisi Di veramente Difficile Ragazzi Abbiamo perso Questo Questa ultima partita Di questo episodio Come sempre vi invito Lasciate un mi piace A condividere il video Trovate tutti i link Dei social In descrizione Restate attivi Su canale Per altri video Su black ops E quindi Con il rod di cipolla Dal vostro Cipolla È tutto Bella ragazzi